buongiorno questo è daily prime pagine il podcast dell'ansa per dare un'occhiata ai titoli e alle notizie delle prime pagine dei principali quotidiani nazionali e approfondire i temi più interessanti con la lettura di un articolo di giornalisti e giornaliste della prima agenzia di stampa italiana buongiorno a chi ci ascolta da gabriele santoro oggi è il 28 febbraio 2024 è ancora la tornata elettorale in sardegna a dominare sulle prime pagine dei quotidiani di questa mattina è il momento delle reazioni con il centrodestra che parla di una sconfitta da cui imparare ma anche con il pd di ellie schlein che ritrova fiducia e ora guarda all'abruzzo e poi la cronaca con l'ennesimo femminicidio questa volta a padova l'europa il monito di mario draghi è l'ora delle riforme in italia in arrivo un ddl semplificazioni novità in vista per i supermercati la scuola e le onlus infine le imprese decreto pnr ecco chi può incassare il bonus industria 5.0 una sconfitta impareremo iniziamo dal corriere della sera questa rassegna stampa di questa mattina con le tensioni nel centrodestra dopo la sardegna tru su il candidato sconfitto in sardegna dice è solo colpa mia mentre la neo governatrice todde afferma rotto il tetto di cristallo nelle pagine interne la nota congiunta dei tre leader del centrodestra giorgia meloni matteo salvini e antonio tagliani che dicono rimane una sconfitta sulla quale ragioneremo insieme per valutare i possibili errori commessi meloni non ci gira intorno e dice ho perso la sardegna ma antonio tagliani afferma non si è vinto ne terremo conto ma questo non ha alcun effetto sulla tenuta del governo salvini però non può negare che quando cambi un candidato in corsa ha affermato è più complicato ma non sarò mai quello che quando le cose vanno bene è merito mio e quando le cose vanno male è colpa degli altri dice il leader leghista che intanto spinge sul terzo mandato tutt'altra musica nel centro sinistra con ellie schlein che rilascia un'intervista a repubblica schlein non finisce qui titola il quotidiano intervista la leader del pd insieme si può abbattere meloni leggiamo cosa dice schlein meloni si può abbattere dice appunto la segretaria del partito ma bisogna restare uniti a destra ci sarà una resa dei conti ma ora vogliamo l'abruzzo dice schlein stavolta nemmeno io avevo certezze era dal 2015 che non strappavamo una regione alla destra e questa non sarà la nostra ultima riconquista dice ancora schlein la premiera ha preso una sberla ha forzato e ha trascinato pure salvini nella disfatta ora nel centro destra voleranno stracci cambiamo argomento passando al quotidiano nazionale un altro femminicidio 24 ore dopo il delitto di lucca siamo a padova uccisa coltellate dal marito sarah buratin 41 anni madre di una quindicenne l'ultima vittima di femminicidio a poche ore da quello di maria battista ferreira a fornaci di barga lucca dice il quenne buratin è stata uccisa coltellate nel cortiletto della casa della madre che era andata a trovare adesso si cerca il marito che si è reso irreperibile l'ipotesi e che il suo furgone sia finito nelle acque in piena di un fiume passiamo poi alla prima pagina della stampa parliamo d'europa la scossa di draghi all'europarlamento non dite sempre no è l'ora delle riforme l'ex premier ha parlato ieri al parlamento di strasburgo davanti alla conferenza dei presidenti di commissione e ha rivelato che sabato scorso avrebbe lanciato una stoccata ai ministri delle finanze durante un incontro a gand mi hanno chiesto qual è l'ordine in cui le riforme andrebbero fatte ha raccontato draghi si legge sulla stampa io non ho idea di quale sia l'ordine ma posso dire solo una cosa per favore fate qualcosa scegliete voi cosa ma fatelo non potete passare altro tempo dicendo di no a tutto dice ancora mario draghi le scelte di questi anni determineranno la capacità dell'europa di tenere il passo con i suoi concorrenti globali è la mancanza di competenze a determinare la carenza di forze lavoro serve più formazione per innovare e torniamo in italia con il messaggero che ha letto la bozza del nuovo disegno di legge semplificazioni atteso a breve in consiglio dei ministri un testo a cui stanno lavorando vari ministeri coordinati da quello della pubblica amministrazione di paolo zangrillo pane scuola e onlus regole più semplici dice il quotidiano di roma in arrivo appunto un ddl per ridurre procedure e oneri per esempio nei supermercati sugli scaffali il filone di pane precotto e dovrà rimanere separato dal fresco ma non incartato cremazioni tempi più rapidi e tariffe minori alberghi arriva lo spazio extra per i parcheggi novità in arrivo anche per il terzo settore aiuti pubblici alle associazioni no profit senza rendicontazione e novità in arrivo anche per la scuola per esempio per garantire una maggiore presenza degli insegnanti di sostegno ci spostiamo infine sulla prima pagina del sole 24 ore dove si parla di decreto pnr industria 5.0 chi incassa il bonus il piano transizione 5.0 che prevede il credito di imposta fino al 45 per cento per investimenti delle imprese destinati a risparmio energetico spiega il quotidiano economico sarà operativo dopo l'emanuazione dei due decreti attuativi per ottenere il bonus massimo è necessaria la doppia certificazione dalle spese agevolabili a quelle escluse ecco tutti i passi necessari per ottenere il bonus attraverso la piattaforma del ministero delle imprese e sull'autocritica all'interno della coalizione di governo dopo la sconfitta in sardegna leggiamo oggi un articolo dell'ansa di silvia gasparetto la parola d'ordine nel centro-destra è minimizzare il voto in sardegna era un voto locale che non ha avuto e non avrà impatti sul governo ma alla sera è la stessa giorgia meloni a fare trapelare pur tra di scherzi e sorrisi dell'intervento alla stampa estera tutta l'ammarezza per il risultato sull'isola ho perso la sardegna ammette senza giri di parole mandando a contempo quello che suona come un avviso agli alleati sono buona ma mai sottovalutare un buono costretto a diventare cattivo poi lo scatto d'orgoglio racchiuso in una battuta se vi avanza qualche soldo da investire bene in un'azione seria con un governo longevo ci sarebbe questo btp valore a cui mi permetto di fare pubblicità nel giorno che certifica la vittoria di Alessandra Todde su Paolo Truzzo è il momento di mandare in scena l'unità e l'autocritica anche se qua e là nonostante il tentativo di nascondere le frizioni sotto il tappeto riemergono il distinguo tra gli alleati il candidato certo si assume la responsabilità di aver fallito la prova e la premier firma una nota congiunta insieme ad Antonio Tagliani e Matteo Salvini ammettendo che sì qualche errore è stato fatto e dovrà servire per non ripeterne altri già a partire dalle prossime tornate elettorali alla fine paga il centrodestra che resta unito la coalizione ha aumentato il suo consenso sfiorando il 50% ai leitmotiv e la Sardegna nota nei piani alti di Fratelli d'Italia ogni 5 anni cambia colore ciascuno poi interpreta i numeri a modo suo. La Lega con il partito sardo d'azione ha migliorato la sua performance sull'isola il ragionamento che sottolinea il vice di Matteo Salvini Andrea Crippa respingendo i sospetti che alleggiano sulla Lega di aver orchestrato il voto disgiunto. Impossibile assicura sottolineando come peraltro fanno anche i Fratelli d'Italia che nelle città a partire da Cagliari Truzzo ha avuto un tracollo di voti rispetto alla coalizione altro che voto disgiunto. Il commento ricorrente certo Punzecchi è leghista il territorio non ha capito il criterio dei rapporti di forza le candidature locali non si possono fare con Imanuale e Cencelli gli fa eco Massimo Bittonci guardando al Veneto mentre Luca Zaia conta ancora che la partita del terzo mandato non sia chiusa. Il suo partito in teoria dovrebbe ripresentare in aula l'emendamento bocciato in commissione ma il risultato non dovrebbe cambiare spiega il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani invitando di nuovo l'alleato a riparlarne con calma dopo le europee. E quella è il ragionamento che si fa in Fratelli d'Italia la vera partita. Touche alla Todd che ha fatto una bella campagna elettorale ma amministrative e regionali sono un fatto locale ci vediamo l'11 giugno dice il capogruppo alla camera Tommaso Foti. Nel frattempo però bisognerebbe evitare di arrivare troppo a ridosso del voto a individuare le candidature come è successo in Sardegna e stigmatizzato da Matteo Salvini. Se si cambia un candidato in corsa è più complicato tanto che il tavolo del centrodestra per le amministrative è tornato a riunirsi nel tentativo di accelerare le prossime scelte. Noi siamo per Bardi con una convergenza più ampia. In Basilicata ribadisce Maurizio Gasparri sottolineando che oltre al nome bisogna creare le condizioni per vincere e si starebbe chiudendo sul governatore uscente Vito Bardi. Non ci sono preclusioni di Fratelli d'Italia assicura Giovanni Donzelli anche se nella Lega sono convinti di avere alternative valide. Certo il partito di via Bellerio che potrebbe incassare l'ok alla scelta di Ike Smith per la corsa a sindaco di Firenze dopo il passo indietro su Cristian Solinas punta su Cagliari e sulla riconferma di Donatella Tesei in Umbria. Ma si è vota giugno e in autunno c'è tempo per decidere, dicono gli alleati. Per gli aggiornamenti su queste notizie, per le top news e gli approfondimenti su tutti i temi del giorno andate su ansa.it e ricordatevi di seguire il podcast Ansadaly sulla piattaforma su cui ci ascoltate. Per oggi con Daily Prime Pagine è tutto. Vi saluto augurandovi una serena giornata. Grazie per la visione!